Oggi è il 25 aprile e il cinevirus si adegua. Vorrei soltanto consigliarvi alcuni film. E allora cominciamo da Mussolini, Ultimo atto, 1974, Carlo Rizzani, Rod Steger nella parte di Mussolini, seguiamo i suoi ultimi giorni fino alla fucilazione a Dongo, un film rigoroso come li faceva Lizzani. Nel 1945 invece Roberto Rossellini gira un capolavoro che è sempre bene vedere e rivedere, Roma città aperta. Siamo nella Roma dopo l'8 settembre, occupata ancora dai tedeschi, è memorabile la scena di Francesco che viene caricato su un camion e dai tedeschi, mentre Pina, Anna Magnani, lo rincorre e viene falciata dai mitra e Don Pietro Aldo Fabrizi protegge il suo bambino. E ancora sulla lotta partigiana c'è un bel film di Guido Chiesa, Il partigiano Johnny con Stefano Dionisi, tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio. È un film intenso di crescita, di maturazione morale e civile nella solitudine delle langhe e della guerra partigiana fra rossi e azzurri. E ancora, per ritrovare un po' il clima degli anni del fascismo, un bel film di Ettore Scola, una giornata particolare con i due protagonisti, Marcello Mastroianni e Sofia Loren, e la loro tenue amicizia sullo sfondo di una grande cerimonia che il fascismo sta ufficiando proprio in quella giornata. E visto che un po' ogni tanto dobbiamo anche ridere, e allora mettiamoci anche il federale. Luciano Salce, 1961, Primo Arcovazzi, Ugo Tognazzi che va in giro col suo Saidecker sfasciato insieme al professor Bonafè, George Wilson. Buon 25 aprile.